bella a tutti ragazzi bentornati nel mio canale oggi faremo insieme la missione schiera la sonda chiunque di voi sta provando a finire gli incarichi di vallarguta raga troverà appunto tra gli incarichi questa missione noi la affronteremo insieme magari sarà utile per qualcuno che non riesce a capire cosa deve fare magari qualcuno si troverà bloccato magari qualcuno vuole solamente prepararsi in vista della missione nell'occasione ci penso io e ci facciamo un bel video allora come prima cosa ci droppiamo ovviamente nella mappa impiegherei questo lama se ne trovo un altro vorrei farvi notare anche un piccolo glitch che notate in questi giorni raga vediamo vediamo comunque ho già letto dalla missione che dovrebbe essere simile a un consegna la bomba quindi non so veramente cosa aspettarmi giriamo un po per la mappa e tentiamo di esplorare tutte le zone sconosciute io gioco sempre con questo straniero raga anzi non spoilerò niente perché ci faccio un video proprio su questo eroe che sto usando ci farò un video ogni settimana in questa settimana aspettate un video proprio sullo straniero inizio già recuperare anche blab raga perché sappiamo che se è un consegna la bomba ce ne chiede quattro quindi strada facendo ci recuperiamo pure blab abbiamo un po di gente qua basta andiamo sotto trovare via questo e abbiamo già tre blab ecco raga guardate guardate sta cosa guardate eh se io butto due lama una volta non avrei fatto in tempo a spaccarli cioè nel senso che sì magari con lo straniero se tiri tutti i colpi precisi da quando inizio a fare più o meno questo suono dopo un po vi ricordate sparisce ecco guardate sta continuando cioè guardate quanto rimangono tantissimo raga cioè il tempo è tantissimo sembra anche a me o è di più rispetto al solito boh fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti anche perché magari una mia allucinazione ma a me sembra veramente così comunque ecco qua il primo punto esclamativo non capisco bene cosa devo fare ah ah l'ho visitato ok era solo da visitare penso costruire mi fa costruire non penso sia da difendere ma come di pvp ah sì bello bello bella cagata ok ce ne sono altri due nella mappa andiamo andiamo dagli altri due l'affronterò in singolo perché raga così potete vedere che la missione è veramente tanto semplice in modo che anche voi potrete sicuramente affrontarla in singolo intanto ho trovato anche l'altro punto esclamativo bastava saltarci sopra sti crateri diciamo boh non solita cosa per tirare un po' le lunghe salva al mondo no e con l'overboard mi fa saltare dai qualcosa che poteva un po' vabbè lasciamo perdere potevo fare qualche salto mortale qualcosa no invece solo a piedi posso saltarci se era batteri al commento che pure pure con l'aereo potevi vabbè vabbè non commentiamo cerchiamo di finire questa missione più in fretta possibile che non vorrei tirare il video troppo per delle lunghe non vorrei proprio io continuo esplorare la mappa ok ecco qua infatti era un consegna alla bomba veramente me l'avevano accennato dei miei amici però non sapevo cosa aspettarmi quindi schieriamo b e immagino io debba trovare anche a qua abbiamo la fenditura in teoria questa è la vera fenditura mi ricordo che nell'altro episodio avevo cioè l'avevamo ricoperta con un atlante l'avevamo difesa la fenditura quindi questo sarebbe il continuo però non capisco bene cosa il continuo di che prima c'era un atlante intorno alla fenditura ma non c'è più su atlante ok l'ultimo blub che culo proprio qua sul confine allora raga io velocizzerei la parte magari in cui faccio i binari quindi cercherò di stare il più zitto possibile wow raga cioè ho usato i binari precisi se l'avrei dovuto fare apposta non ci sarei mai riuscito non mi ricordo se erano 30 o 40 e li ho usati tutti completamente tutti se facevo i conti sicuramente non ci avrei azzeccato così vabbè partiamo col difendere la bomba raga allora raga colgo l'occasione per ricordarvi che se volete potete seguirmi su instagram dove pubblico le storie quando do le armi ai vincitori dei vari contest quando do i vari premi eccetera eccetera e potete anche contattarmi alla fine di questa serie raga ci sarà un boss da sconfiggere che vi anticipo già vi darà una spilletta cioè se voi sconfiggerete questo boss completerete tutte le quest di vallarguta vi darà una spilletta la epic games vi darà una spilletta che vi spedirà direttamente nella vostra casella di posta di casa quindi avrete una spilletta con appunto raffigurato questo boss fisicamente raga cioè secondo me è fantastico non vedo l'ora di arrivarci e magari cogliamo l'occasione anche per fare la missione con qualcuno di voi se l'idea vi può piacere vi può interessare comunque vi consiglio di fare tutte le missioni entro il 2 gennaio hanno detto raga chiunque finirà tutte le quest di vallarguta entro il 2 gennaio e riceverà questa spilletta che ok adesso sentite il mio discorso potrà anche essere un oggetto tranquillo no? una spilletta che valore volete che abbia ma pensate magari tra 5-6 anni se non rimettono più questa spilletta quanto potrà arrivare a valere perché sarà un oggetto che era limitato appunto per tutti noi livelli alti che abbiamo pagato salva al mondo quindi che non abbiamo aspettato che uscisse gratis avremo questa spilletta che magari vale tanto magari non varrà nulla che ne so secondo me vale la pena pushare le missioni tra virgolette cercare di farle tutte velocissimamente senza perdere tempo voi cosa ne pensate? io ve lo chiedo anche a voi nei commenti fatemi sapere se secondo voi se il mio ragionamento ha un senso secondo voi non ha senso insomma accetto pareri accetto critiche assolutamente non sono il ragazzo che se la prende anzi sono più che felice di coinvolgervi raga nel frattempo la stiamo difendendo veramente veramente easy questa bomba quindi cioè raga potete farle benissimo anche voi le missioni perché sono veramente veramente semplici basta formare anche un gruppo da 4 insomma organizzarsi con gli amici io comunque mi rendo disponibile e gioco spesso con voi oh quanti ne stanno nascendo? aspettate aspettate c'era una bella ondata c'era cos'è un accampamento qua vicino? no no non c'è nulla sono nati proprio dalla fenditura hanno spaccato pure binari un attimo che li ricostruisco maledetti me la pagherete cara me la pagherete la bomba è quasi arrivata a destinazione anche raga sappiate che per fare consegna alla bomba io ho portato un video molto tempo fa in cui vi faccio vedere un glitch su come trasformare la bomba da A a B direttamente questo glitch l'ho già riproposto due volte nel mio canale ancora però non ero molto seguito magari ci rifarò un video ancora se la cosa vi può interessare perché è ancora funzionante fa risparmiare molto tempo sinceramente qua non mi sentivo di portarlo direttamente in questa missione perché volevo appunto affrontarla insieme a voi ok ora difendiamo B insieme ma no mi sa che si è buggata la bomba no non me lo dire non me lo dire oh no se la sta pigliando bella ho temuto per un attimo di doverla rifare da capo meno male raga meno male ah è già finita così la missione non bisogna difenderla che soddisfazione raga che soddisfazione mi spiace il video mi tocca farlo finire qua spero che l'idea vi sia piaciuta però mi viene spontaneo farvi una domanda raga cioè di speciale che cosa aveva questa missione ciao 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 ciao